Ragazzi siamo a Gianovetusto, paese di Robesto diciamo, Gianovetusto c'è anche Max Massimo Verde che ci è venuto a trovare oggi e piove a Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. A Gianovetto, a Gianovetto. 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 Ma che è lo zigzag? Con questo tempo impervio. Non è affatto facile da fare. Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto. Gianovetto, a Gianovetto. E' il terrenesimo albero, cazzo. Ancora? Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto, a Gianovetto. E' sempre andiamo dritto sotto. No, ma no, non lo so. Si va bene a Gianovetto. Non dovevamo girare, non dovevamo girare. Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto, a Gianovetto, a Gianovetto. Gianovetto. ragazzi abbiamo dato il freno davanti il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Scusate qua! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.